Ciao a tutti e benvenute e benvenuti in questa presentazione della Community Life Prime Network. Avete mai sentito parlare di gruppi d'acquisto? Bene, oggi vi parlerò proprio di questo, vi parlerò di Life Prime Community, di questa community privilegiata. Ecco, entrando a far parte del nostro gruppo d'acquisto potrai avere una scontistica che va dal 30 fino al 70%. Inoltre possiamo avere questa scontistica non solo sulla linea che magari già conoscete dell'ottimizzatore di cottura, ma su tutti i prodotti che fanno parte del marketplace. Inoltre, grazie alla nostra condivisione, al nostro passaparola, avrete anche l'opportunità di avere un'entrata extra a fine mese. Noi per 21 anni ci siamo occupati di cucinare meglio, quindi far mangiare bene le persone e grazie a questo divo d'acciaio, a questo ottimizzatore di cottura abbiamo raggiunto un milione di clienti. Il nostro fatturato con grande orgoglio ha superato i 100 milioni di euro e cos'è accaduto? Che molte aziende concorrenti si sono viste un pochino costrette a copiare il nostro brevetto, perché è un prodotto che sta andando e già da diversi anni veramente alla grande è diventato un prodotto veramente indispensabile, che va bene per grandi e piccini, insomma un qualcosa che ci aiuta a mangiare sano e a ridurre i tempi e a risparmiare e quant'altro. Ora, come community, come azienda ci siamo accorti che le persone, oltre a voler cucinare in modo sano, hanno un problemino serio ecco da risolvere e infatti è dal 2001 ormai, altro che dalla pandemia, tutti i prezzi sono un pochino aumentati, un po' per l'aumento delle materie prime, un po' per l'inflazione, insomma per tante caratteristiche, tante problematiche comunque nel mondo. Ecco, l'unica cosa che non è variata è proprio lo stipendio. Ecco, noi a fine mese percepiamo lo stesso stipendio non hanno avuto un aumento se non irrilevante, ma ahimè i prezzi aumentano sempre di più, dai generi alimentari, al costo della casa, agli affitti e quant'altro. E credo che sarete d'accordo con me che se le entrate rimangono sempre uguali, quindi ricevo sempre lo stesso stipendio e ahimè le uscite raddoppiano perché aumenta tutto, è aumentato la tasso universitario, il bollo dell'auto e la benzina e i generi alimentari e l'affitto e la vacanza e il vestiario e quant'altro. Insomma, tutte cose di cui l'essere umano necessita diventa complicato poi arrivare chiaramente a fine mese. E proprio per questo sono un po' di anni che stiamo lavorando a questa problematica, stiamo cercando di risolvere questo problema e abbiamo pensato, ma se noi riuscissimo a dare ai nostri clienti i prezzi di un tempo, quindi i prezzi più bassi rispetto a quelli che abbiamo attualmente, se riuscissimo a far avere ai nostri utenti, ai nostri clienti, un'entrata extra a fine mese che comunque fa bene a tutti, ma soprattutto se noi rendessimo più felici i nostri clienti, soddisfatti e con tantissime agevolazioni, ecco, siamo posti questa domanda e ovviamente il quesito è da dove partire? Ecco, dai prodotti che noi clienti, che i clienti in generale comprano giornalmente. Infatti, signori, noi oltre a cucinare, comunque ci teniamo alla casa, quindi abbiamo bisogno di detersione per la casa, teniamo pulito e curato il nostro corpo, quindi abbiamo bisogno di prodotti per la pulizia del corpo, utilizziamo i profumi, più chi meno utilizza comunque il profumo. Tutti noi utilizziamo una crema viso, un cosmetico, un integratore, i trucchi e, signori, siamo italiani, beviamo un buon caffè. A tutti piace a tazzulelli caffè, quindi il caffè di una certa qualità. Diciamo che 99 su 100 la mattina si svegliano con la tazzina di caffè. E questi prodotti, che cos'è che hanno in comune? Ne utilizziamo tutti i giorni, quindi tutti i giorni cuciniamo, tutti i giorni usiamo la crema, tutti i giorni prendiamo più o meno un caffè. Insomma, tutti i giorni puliamo casa e quant'altro e veramente non ne possiamo fare a meno. Altra cosa è che tutti questi prodotti terminano, quindi c'è un riutilizzo e devono essere ricomprati. Ora, dico io, visto che li dobbiamo ricomprare, il detersivo lo devi comprare, l'integratore lo devi comprare, la crema finisce, il trucco finisce e quant'altro, perché non comprarli in un posto dove posso risparmiare, dove posso avere delle agevolazioni, risparmiare la metà su questi prodotti sarebbe già di per sé una grande occasione. Ma noi ovviamente siamo degli esperti nel sistema di cottura, nel famoso Magic Cooker e vogliamo assolutamente continuare ad esserlo. E quindi abbiamo fatto una ricerca di mercato rivolgendoci a una serie di produttori, ognuno specializzato nel proprio settore, quindi il produttore della dermocosmetica, il produttore dei detersivi, il produttore dei trucchi, quindi persone che gestiscono questi filoni, questi canali da diversi anni, quindi una certa esperienza sul mercato, ci siamo messi in contatto con loro e abbiamo detto, come noi siamo oltre un milione di clienti, quindi siamo veramente tanti e abbiamo tantissimi clienti che sono tanti anni dal 2003 che si fidano di noi, mi piacerebbe, mi avrebbe fatto comunque piacere mettere in contatto le nostre clienti con in cambio due semplici cose. Quindi ci siamo presentati da questi produttori, ci siamo presentati con un pacchetto persone fidelizzate e abbiamo chiesto, vogliamo avere lo sconto alle nostre clienti e devi darci una royalty per ogni prodotto venduto che noi divideremo equamente con chi di loro ci aiuta ad espanderci ed arrivare a 10 milioni di consumatori. Ecco, ci siamo proposti così alle aziende e cosa è avvenuto? Che hanno detto tutti di sì, cioè le migliori aziende produttrici di questi nuovi canali che abbiamo inserito ci hanno detto di sì, sono disposto a darvi degli sconti pazzeschi per rendere felici i vostri clienti, per continuare a fidelizzare il cliente e soprattutto per far risparmiare e guadagnare gli utenti finali. Quindi ci siamo veramente ampliati tantissimo. Oltre al magic cooker abbiamo inserito l'attuaio, la terracotta, prodotti che ci permettono di cucinare a vapore, pentole stampate, pentole artigianali, pentole in cryocasting, linea induzione, accessori per la cucina, quindi utensili in generale, bijou. Abbiamo anche una linea, inoltre cosmetici di alta qualità, la linea per pelli sensibili, la candor, la linea degli abbronzanti veramente di ultima generazione, la linea brilliamo, pulizia professionale per la casa, gli oli essenziali che veramente hanno tutto un mondo da scoprire. Abbiamo la linea libri, magic cooker editore, i profumi che più ne ha più ne metta e il nostro caffè speciale di diverse qualità, quindi i sorsi dei caffeinato, il classico è quello più leggero. Quindi veramente tante aziende, tanti produttori stanno lavorando in collaborazione con noi dando un prezzo veramente addevolato agli utenti finali. Vi faccio alcuni esempi, una pentola artigianale che ha un costo di 169,90 per chi fa parte di questa community, per chi entra a far parte di questo gruppo d'acquisto la può avere a 49,90. La terracotta da 45, 21,90 euro. Il tris dei coperchi addirittura a 99,90 tutti e tre, anziché 229. L'acciaio vedete al 50%, ancora i prodotti in Pyrex, questo è un guento per i dolori, da 20 euro a soli 9 euro. E ancora le CC Creamer Pale per il viso, creme colorate da 24 a 12 euro. E ancora linea crema corpo a 14 euro, quindi al 50%, linea viso, un prodotto particolare con delle fibre che vanno ad allungare le ciglia, quindi a soli 19 euro. I BCU tutti a 9 euro. E ancora gli oli essenziali, tutti a metà prezzo al 50%, l'olio 31, i prodotti per la pulizia della casa, quindi questo prodotto per pavimenti particolare, concentrato da 8 euro, appena 4,45, il profumo 14,90 euro. Insomma, una scontistica veramente incredibile, un vero e proprio negozio dove voi potete attingere in qualsiasi momento e avere un grandissimo risparmio che poi gioverà, di questo gioverà il vostro, no? La vostra vita, la vostra quotidianità, la vostra famiglia, potete destinare questi soldi risparmiati assolutamente ad altro. E poi abbiamo anche una categoria speciale, una categoria outlet, quindi ogni mese la nostra azienda inserisce delle offerte speciali come prodotti, insomma, accessori per la cucina, per la scuola, prodotti particolari, questo è uno sterilizzatore germicida, insomma, con dei prezzi veramente pazzeschi, al di sotto anche di grandi colossi aziendali. Ora, vi ricordate che io all'inizio vi ho detto, ragazzi, potete risparmiare fino al 70%, quindi potete acquistare online con un grandissimo risparmio, va bene? E vi ho detto pure, potete ricevere i prodotti gratis, ma vediamo in che modo, perché chi entra a far parte del nostro gruppo d'acquisto può avere anche dei prodotti gratis. E soprattutto, vi ho detto una cosina, condividendo il vostro sconto, quindi concedendo il vostro codice amico alle vostre amiche, potete anche avere un guadagno extra. Ecco, Giovanna, ho capito, mi piace quest'idea che io posso comprare tutte queste cose, anziché andare nei negozi lo compro da me. Cosa devo fare per entrare in questo gruppo d'acquisto? Devi avere un codice amico, quindi è possibile entrare in questo marketplace con un codice amico e con una quota associativa annuale di appena 29,90, che non permarrà ancora a lungo, perché poi andrà in aumento. Con questo codice che ti concede la tua amica del cuore e con 29,90 tu per un anno, quindi per 365 giorni, hai questa scontistica fino al 70%, che ti ho mostrato poc'anzi. Ordini tranquillamente da casa tua e paghi anche a rate, perché abbiamo anche la modalità scalapei. Il prodotto arriva direttamente a casa, quindi senza grandi fastidi e quindi non qua. Il risparmio è fatto, vedrete veramente un grande risparmio per quanto riguarda i vostri acquisti, che bene o male più o meno dobbiamo fare. Pensiamo al detersivo, pensiamo alle creme, pensiamo al profumo, sono comunque diciamo veramente di prima necessità. E poi parliamo dei regali, no? Come fare ad avere anche i regali da questo gruppo d'acquisto? Certo, perché noi sicuramente abbiamo delle persone che amiamo e sicuramente queste persone che amiamo mamma, cognata, sorella, cugina, avranno lo stesso problema, no? Dei prezzi rincarati e dello stipendio sempre lo stesso. E quindi anche loro, anche i nostri cari, le nostre amiche, le nostre conoscenze devono comprare tutti i giorni questi prodotti di cui abbiamo parlato. E sicuramente noi avremmo piacere a fare avere la stessa scontistica anche a loro. Sicuramente anche loro vorranno risparmiare per il discorso, no? Dello stipendio sempre uguale e dei prezzi comunque che sono aumentati. Senza il codice amico, senza il vostro codice amico, purtroppo questi ultimi, non potranno avere l'opportunità. Infatti io, Giovanna, ho dato volentieri il mio codice amico, perché faccio parte di questo gruppo d'acquisto, a mia sorella, a mia mamma, a mia cognata, a mia socia, alle mie amiche del cuore, perché si entra solamente con questo pass, se così possiamo definirlo. E quindi dando questo codice potrai dare questo beneficio a loro. Quindi potrai far risparmiare anche loro, che più o meno siamo tutti nella stessa situazione. L'azienda ti dice, brava Giovanna, tu che ormai fai parte del gruppo d'acquisto e hai ceduto, hai dato, condiviso il tuo codice amico con due amiche, con quattro amiche, con sei amiche, con venticinque amiche, ogni due persone con le quali condividi il codice, tu potrai scegliere i regali. Quindi l'azienda ci premia pure. Ho regalato due codici, quindi due persone che si sono iscritte con ventinove e novanta e che stanno attingendo agli sconti. Bene, l'azienda in autonomia ti fa scegliere anche dei regali. Da uno a sei, quello che più desideri dal nostro negozio online. E ora arriva la parte più bella, ok? Sono entrato nel gruppo di acquisto, mi sono attivata gli sconti per un anno e sto cominciando a cedere il mio codice alle persone care. Quindi arrivati a quattro amiche, quindi Francesca, Maria, Barbara e Gelsomina, possono essere mamma, cognata, sua, c'era, sorella, amica del cuore, comare, quello che sia, si apre un tasto, si apre un'icona dove ti dice ora puoi pure iniziare a guadagnare dagli acquisti che fai tu e che faranno le tue amiche, le tue conoscenti, i tuoi cari ai quali hai prestato il tuo codice, ok? E ci sono due tipi di guadagni che a fine mese avere questo bonifico dall'azienda, una nostra carta è qualcosa veramente di importante. Intanto vai a guadagnare sui tuoi acquisti personali, quindi hai un grande risparmio e non solo, l'azienda sui tuoi acquisti personali, oltre allo sconto, ti paga anche un cashback, un ritorno di cassa, una provvigione che va dal 3 al 28%. Per ogni acquisto che tu fai, vi faccio un esempio, acquisto un prodotto che costa 29,90, ho lo sconto, lo pago 15, su quei 15 euro l'azienda mi paga anche dal 3 al 28% in base al volume, quindi guadagno due volte e non solo. La seconda forma è che l'azienda ti fa guadagnare un cashback, ti dà un guadagno anche su quello che le amiche tue e le amiche delle amiche tue acquisteranno. supponiamo che in tre mesi le tue amiche alle quali hai dato il codice e che a loro volta l'hanno dato, il codice, acquistino dei detersivi, acquistino 300, 400, 500 euro di detersivi. Bene, su quei loro acquisti che loro fanno fatti loro, tu avrai dei gettoni, che sono soldi, che sono provvigioni, che si chiama cashback, dal 3 al 28%. Giovanna, ma come funziona? Ogni euro di acquisto che sia fatto o da te o compri tu o lo comprono le amiche tue e ti vale un punto, va bene? E' comunque una scaletta che ti fa guadagnare sempre di più in base a quello che si spende. In un mese ho speso 50, guadagno anche il 3%. In un mese 100 guadagno anche il 6% oltre lo sconto. Ho fatto 200 guadagno il 10%. Ho fatto 4,50 guadagno il 14%. Ovviamente questi fattori 50, 100, 200 che vedete qui in scala non sono solo vostri acquisti personali, ma anche quelli delle persone alle quali avete concesso il codice amico. Quindi se io acquisto 50, mia sorella 50, mia cugina 50, gestomina 50, rientro nella scala sempre più alta del cashback. Per esempio qui si hanno fatto 1.800 euro di spesa che ci arrivano molto facilmente. Io prenderò anche un 18% e a fine mese avere altri soldini che ti entrano sono veramente cosa buona e giusta, che può essere un terzo stipendio, un quarto stipendio, un'unica entrata, un'entrata per una persona che magari studia e si crea questo cashback, questi soldi che l'azienda ti dà e che non ti costringe ad acquistare comunque da noi. In molte altre aziende il cashback ti danno dei punti, ma ti dicono devi spenderli sempre da noi. Va bene? Noi no, noi ti facciamo il bonifico con quei soldini, con quei soldoni, perché sono anche soldoni, tu puoi spendere dove vuoi. Questa è una cosa veramente straordinaria. Come ti dicevo, il totale dei punti fatti in un mese, in base a te, gli acquisti tu e gli acquisti delle tue amiche, ti dirà quanto vai a guadagnare su questa meravigliosa scala. Anche le tue amiche avranno il cashback, quindi anche le tue amiche avranno un loro guadagno. Visto che i punti si sommano, tu che sei il codice primario, avrai più punti. Giovanna, se inserisce Francesca, Maria, Gersomine, eccetera, è normale che io sono il codice madre e quindi guadagnerò, beneficerò da tutto ciò che acquisteranno le mie amiche, che a loro volta avranno anche loro un guadagno e si guadagna per differenza. Questa cosa poi ve la spiegherò ancora bene, ancora meglio. Quindi io ho totalizzato 450 punti, la mia amica ne ha totalizzati 100, anche lei deve guadagnare, lei prende il 6 e io prendo la differenza, l'8%. Quindi guadagna sia la mia amica che io, che sono il codice madre. È qualcosa di spettacolare, attualissimo, moderno. Ora vi faccio alcuni esempi di ragazze che hanno già detto di sì. Abbiamo preso come riferimento agosto che è un mese un po' mosso, bassetto, bruttino come mese, però abbiamo quello come riferimento. Abbiamo la signora Laura, ha guadagnato 281 euro di cashback, va bene? Abbiamo assunta che ne ha guadagnati 461 di euro, perché ha dato 17 codici amici. Abbiamo a Cardi, la signora Enza, che ha guadagnato 767 e ha regalato 20 codici amico. Abbiamo Mariangela, ha guadagnato 876 euro e ancora. Gabriella, 1100, che ha regalato 23 codici amico. Patrizia, 1600 euro, che ha regalato 34 codici amici. Rosaria, 1850 di cashback, di soldoni che l'azienda ci bonifica mentalmente. Mary, ne ha guadagnati 2300, perché ha condiviso il suo codice amico. Giovanna, 3200, che ha condiviso appena 14 codici amici. E ancora Mena ha guadagnato quasi 5000 euro, dando un solo codice, avendo comunque un gruppo, quindi tante persone che fanno la spesa a fine mese. E quindi sono persone che ce l'hanno fatta e qui sicuramente voi che mi state ascoltando rientrerete in brevissimo tempo. Sono dei piccoli o grandi stipendi che fanno veramente la differenza all'interno di un budget, all'interno di un'organizzazione familiare. Giovanna, ma devo vendere? Perché se questi hanno guadagnato questi soldi perché vendono, io non lo posso fare perché già lavoro non mi piace. Ti dico quello che devi fare. Proprio vendere no, perché nemmeno a me piace. Ma assolutamente, tutti i giorni puoi comprare i prodotti che ti servono con lo sconto. E quindi questa già è una grande cosa. Ogni giorno puoi condividere il tuo codice amico, il tuo pass a delle amiche e dici guarda, apratelo pure tu lo sconto. Così ti compri anche tu le cose con il risparmio. E fate del bene a lei e a voi stesse. Va bene? E poi, se le vostre amiche vogliono aprire anche loro questa sorta di negozio, abbonandosi con 29 e 90, la presentate alla leader, a Giovanna, alle leader di riferimento dove spiegano quello che io sto spiegando a voi. Dici guarda, vuoi risparmiare pure tu? Ti faccio parlare con Giovanna, così anche tu ti apri il codice di sconto di risparmio, pure tu vuoi comprare quello che vuoi, pure tu vuoi guadagnare qualcosa a fine mese. Quindi ragazzi, non si tratti del sistema antico dove si andava a casa a casa, ma non esiste proprio. Questo è tutto per la maggior parte online. Lo so, mi sembra troppo bello per essere vero, ma lo è. Voi pensate che con soli 29 e 90 ogni giorno risparmi soldi, sia tu che le tue amiche. La cosa bella è che aiuti le persone che ami a risparmiare, ricevi regali, perché l'azienda ogni due persone si dà i regali, si dà un ulteriore sconto su quello che acquisti, e ve l'ho fatto vedere precedentemente, ed una percentuale sugli acquisti delle persone che ami. Veramente, un ritorno di cassa, un cashback incredibile, automatico, adatto anche ai ragazzi, ai giovani che si ritrovano sulla carta, sulla vostra e veicola, quello che sia, dei soldi a fine mese. Un ritorno di cassa. Puoi farlo adesso, più aspetti sicuramente, più si sprega tempo, e quindi continuerai ad acquistare le cose a prezzo pieno, quindi senza un risparmio e senza andare a risolvere il problema di cui ti ho parlato all'inizio, dell'aumento dei prezzi in generale. Ma vuoi iniziare a risparmiare? Devi dire solo ok, ci sto. Io voglio entrare in questo gruppo d'acquisto, voglio iniziare a risparmiare io, e inizio a far risparmiare le persone che voglio bene, perché sicuramente ne abbiamo tantissime. Magari penserete, ma io in questo momento non posso. Io vi dico ragazze, se non puoi, devi. Tanto comunque dovrei acquistare. E non avrai nessuno di questi vantaggi, no? Di questo risparmio. E continuerai, purtroppo, a non poter fare rinunce. Invece si accetta la sfida, si inizia a risparmiare, si inizia a mettere soldi da parte per far fronte a qualcosa di cui, a cui tenete veramente, di cui avete veramente bisogno. Giovanna, perché dovrei farlo subito? Chi prima arriva, ecco, ottiene sicuramente più vantaggi, perché questo è un lancio. È un lancio di questo gruppo d'acquisto a livello nazionale ed internazionale. Oggi entrare costa 29,90 e per i prossimi tre mesi hai lo stesso sconto delle consulenti. Questa è una cosa incredibile. Quindi hai lo sconto che ha un'incaricata, una consulente. Va bene? In questi tre mesi ci presenti quattro amiche, vinci dai due ai dodici regali, schiacci il pulsantino guadagna con noi e questo sconto come le consulenti fino al 70% ti rimane per sé, fino a che deciderai di rimanere nel gruppo d'acquisto. Quindi i vantaggi ne sono veramente tanti. Ora chiedi subito alla persona che ti ha invitato a questa presentazione il codice amico. Dici guarda dammi il tuo codice amico perché si può entrare solo con questo pass perché io mi voglio attivare. Anche io ho deciso di iniziare a risparmiare e di tentare di avere un cashback, un guadagno a fine mese per una semplice condivisione. Quindi iscrivi di subito e goditi questa grandissima opportunità. e passa il favore perché più ne siamo e meno paghiamo. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti